Un festival che si chiama Futura Festival vuole praticamente cercare di indagare il presente aiutandosi con le radici del passato che sono sempre importanti, che ci permettono di guardare al futuro con valori e con alcune certezze, certo le certezze scientifiche sono sempre molto mobili come una volta ci diceva il professor Boncinelli, però insomma ci sono. Allora a partire da queste radici che vengono da lontano, passando per un presente pieno di dubbi ma anche di speranze perché noi viviamo dentro a questo contenitore che è composto da questi due liquidi che è una sorta di dubbio e speranza che si confondono insieme e sono il contesto in cui ci muoviamo in questo presente. Però questo non ci impedisce di immaginare il futuro, quindi io chiederei ad ognuno dei nostri ospiti di aiutarci in immaginare il futuro attraverso l'esperienza scientifica che loro hanno fatto e che possono mettere in campo questa sera per dialogare insieme tra loro se è possibile, perché non vorrei fare solo un giro di domande, e per impostare un'analisi possibile insomma, dove stiamo andando, per cercare di capire insomma quali possono essere i possibili orizzonti gli approdi a cui insomma questo presente può aspirare e può tendere. Io comincerei con il professor Boncinelli, anche per la sua frequentazione storica nel nostro festival, a quale voglio chiedere appunto come, dal suo punto di vista, si potrebbe rispondere alla domanda che ho fatto, insomma. Nel settore della genetica, nel settore della biologia, già l'anno scorso abbiamo parlato di questo. Possiamo dire che domani è un altro giorno o siamo giunti a un punto tale della ricerca che l'ignoto, come lei spesso ci ricorda, professore, è più consistente e ampio del noto. Insomma, siamo a una svolta con le nuove acquisizioni, oppure dobbiamo pensare, insomma, a un orizzonte ancora lontano. Questo potrebbe essere il primo dei temi che possiamo introdurre questa sera. Buonasera, buonasera a tutti. Il nostro immediato futuro è di parlare al chiuso, perché fuori c'è tempo poco buono. Speriamo che il domani sia un futuro leggermente diverso. Questo dimostra, anche se io lo dico scherzosamente, che il futuro non si può conoscere. Quindi domani è certamente un altro giorno, ma anche fra un'ora certamente un'altra ora, perché il futuro non c'è. Il futuro deve ancora venire, secondo alcuni punti di vista, si deve ancora formare. È partito da lontano, certo segue delle leggi, non è completamente libero, non è che domani questo teatro sarà fatto di gelatina, però non è impossibile. Diciamo, secondo il nostro buonsenso, domani questo teatro non sarà fatto di gelatina e nemmeno sarà tutto arso, però tutto è possibile. Quindi il futuro non c'è. Ma l'uomo non accetta assolutamente questo punto di vista. Fa di tutto, lecito e illecito, per sapere cosa sarà il futuro. La tragedia greca, il mito greco in particolare, ci dicono che questi tentativi di sapere com'è il futuro sono sempre destinati a fare una brutta fine. perché cosa succede nel mito, cosa succede nella tragedia? È che qualcuno, nell'ansia disperata di sapere come vanno le cose, va da un indovino. Mi sono sempre chiesto che cosa qualifica un essere umano un indovino. se c'è un cappello particolare, se c'è una scritta in fronte, se c'è una nomea, c'è un certo Tiresia, per esempio, che è stato uomo e donna contemporaneamente, il quale fa delle previsioni, c'è una certa Cassandra che è stata condannata dal Dio a dirle sempre giuste ma non essere mai creduto. e quindi un re o un personaggio di altro rango va da una Sibilla, da un indovino, e cerca di farsi dire com'è il futuro. E se il futuro non gli piace, come succede quasi sempre, perché le vicende all'uomo non piacciono, allora mette in atto tutta una serie di stratagemmi per vedere di allontanare questo esito, fallendo sistematicamente. Perché evidentemente nella testa dei greci antichi c'era l'idea che quando una cosa è decisa non c'è niente da fare. Puoi anche sapere come non si sa qual è questa decisione, ma le cose andranno comunque in maniera tale che si realizzeranno. Se ci dobbiamo basare su questa esperienza, certamente poeticamente validissima, ma razionalmente un po' sconbiccherata, è meglio non cercare disperatamente di sapere com'è il futuro, certamente non cercare di saperlo da persone che non hanno nessuna qualifica. Quindi il futuro, mettiamocelo in testa, non c'è. Non c'è in politica, non c'è nelle arti, non c'è nello spettacolo, non c'è nelle scienze, non c'è nella filosofia. Ma noi disperatamente vogliamo cercare di immaginarci perlomeno qualcosa del futuro. E allora io che parlerò in questa sede da scienziato, da biologo, perché altre cose le mastico peggio, cercherò di esprimere cosa mi augurerei che succedesse nel mio campo, piuttosto che dire che cosa succederà. E molte delle cose che mi augurerò si realizzeranno, spero, ma non tutte. Per esempio, come voi sapete, gli esseri umani parlano, fanno anche le conferenze, e vanno anche ad ascoltarle, ma nessun animale parla, comunica. Gli animali comunicano a volte anche meglio di noi, quindi si trasmettono una conoscenza necessaria e sufficiente ad altri membri della popolazione per compulsarsi in una certa maniera, ma non ha il linguaggio. Cioè non può parlare di cose che non ci sono, di cose che non si vedono. Non ha quello che a volte viene chiamato la funzione simbolica. Se l'ha il caso che il DNA codificante dello scimpanzeo, se preferite, del bonobo, è più del 99% omologo, cioè uguale, a quello nostro. Ma noi parliamo e lui no. Ecco, una cosa che mi auguro che si apprenderà presto, perché io non ho ancora molto da vivere, vorrei sapere prima di morire qual è la risposta a questa domanda, dove e come sta scritto che noi parliamo e lui no. Non c'è dubbio che sta scritto nel nostro genoma, sia nel nostro sia nel loro. Non c'è dubbio che non sta scritto nel DNA che codifica le proteine, perché quelle sono mattoncini come i pezzi del Lego che servono a costruire una cattedrale, a costruire una caserma, a costruire una barchetta, ma piuttosto nel modo come questi mattoncini sono messi insieme. Quindi la prima cosa che io mi auguro è di conoscere io e conoscere tutto il mondo, dove e come sta scritto che noi parliamo e gli animali no. Dice, ma che domanda stupida? Vabbè, ognuno ha la sua stupidaggine. Un'altra cosa che mi incuriosisce molto, dato gli studi che ho fatto e soprattutto le passioni che ho coltivato, è un altro paradosso conoscitivo. Noi teniamo in tasca dispositivi di memoria di tutti i tipi. 20 mega, 40 mega, 2 giga, 8 giga, 16 giga, e sappiamo come funzionano. Perché se la memoria è una registrazione di eventi passati che possono essere ricostruiti successivamente, lì si tratta di mettere una serie di molecole o di atomi o di ioni in un certo ordine, ripercorrendo il quale si ricostruisce l'evento. Bene, per quanto voi crediate, noi non sappiamo dove e come stanno scritti i nostri ricordi. Ciascuno di noi è fierissimo dei propri ricordi, anzi, ciascuno di noi sa che è i suoi ricordi, perché prima di qualsiasi altra cosa io sono quello che porto con me, quello che ho imparato di raccontabile, quello che ho imparato di meno raccontabile, quello che ho imparato di sentimentalmente per me valido. Non so dove e come sono scritti. Questo mi sembra un tale paradosso, anche se in genere nessuno lo ricorda, perché si legge tantissime cose sulla memoria come se la si conoscesse. Ci sono addirittura le pillole della memoria, addirittura la promessa di restituire la memoria. Ma noi non sappiamo i ricordi dove s'hanno scritti. Quindi la seconda cosa che io mi auguro che si apprenda presto, perché io sono curioso di apprendere questa. L'altra cosa un pochino più terra-terra è il grande capitolo dei tumori. Di solito si dice la parola cancro, anzi prima si diceva una malattia incurabile, poi si è detto cancro. In realtà non è un singolo oggetto, sono almeno 200 tipi diversi di tumori, che sono malattie che nascono da dentro, non da fuori, in cui alcune cellule perdono la bussola della loro velocità di replicazione. Come sapete, da quando abbiamo appreso che cosa causa i tumori, sono stati fatti tantissimi progressi, anche se i soliti pessimisti dicono che non siamo andati avanti manco per niente. In realtà moltissimi tipi di tumori sono guaribili al 60%, che mi sembra tanto. Ma una teoria che ci permetta per tutti i tipi di tumori, perché alcuni che sono particolarmente cattivi, perché colpiscono i bambini piccoli, sono i più sconosciuti, dicevo una teoria che ci permette di capire questa cosa dei tumori, mi sembra che, anche se non è di livello intellettualmente alto, come le mie precedenti due domande, è di particolare interesse. E questo, naturalmente, penso che interessi tutti. Però voglio dire qualcosa che invece succederà di certo. Di certo la vita media continuerà a crescere. Che lo sappiate o che non lo sappiate, da 40 a 50 anni fa, la lunghezza della vita media degli esseri umani aumenta di un trimestre ogni anno che passa. Quindi di 10 anni ogni 40 anni, di 2 anni e mezzo ogni 10 anni. E data la curva di questo progresso, per altri 30-40 anni sarà così. senza che ci siano cambiamenti genetici. Perché è tutto un fatto ambientale. Si mangia mentre i nonni non mangiavano, ci si lava le mani mentre i nonni non si lavavano le mani, ci si cura mentre i nonni non si curavano, e soprattutto da un po' di tempo a questa parte c'è anche una medicina di una seconda, terza o quarta età, come preferite. Quindi sicuramente la vita continuerà a crescere almeno per altri 30-40 anni. Ma tutti questi anziani dove li metteremo? E soprattutto che cosa gli faremo fare? Noi siamo tutti felicissimi che la vita si allunghi, soprattutto se le persone longeve hanno una qualità di vita buona, come in genere è. Io il fenomeno l'ho visto strisciare. Tutte le nazioni sono state colte d'improvviso da questo fatto e quindi non hanno preso dei provvedimenti. E però qualcosa bisogna fare. Questo ve lo lascio veramente a tipo speculazione. Come si dovrà organizzare la società per dare un luogo e dare una ragion d'essere a un numero di anziani che crenticerà in condizionazione. Quindi, come vedete, vi ho espresso almeno quattro interrogativi, due scientifici teorici, uno scientifico applicativo e uno scientifico sociale. Ci saranno sempre più vecchi. Non possiamo fare conferenze e futuri festival ogni giorno perché loro vadano a sentire e si rinfreschino le idee o al limite poi pongano nuove questioni. Qualcosa di costruttivo bisogna far fare. Mi metto anche me tra questi perché anch'io ho superato i 70 anni e mi ricordo che quando ero bambino un 70enne era un vecchio. Ora che ho superato i 70 anni mi rifiuto di considerarmi vecchio. Ma, insomma, sostanzialmente non è che sono un bambino. Anch'io devo fare qualcosa. Mia moglie ha scosso la testa. Non so cosa vuol dire. Forse vuol dire che io sono un bambino. ma, insomma, un rimbambito. Va bene, rimbambito. Quindi, va bene, finisco questo mio sproloquio di esordio dicendo che il futuro non c'è. L'uomo lo vuole conoscere a tutti i costi. Io posso dire quello che mi piacerebbe sapere in certi campi e il resto si starà a vedere. Grazie. Grazie. E come immaginavo con il professor Boncinelli abbiamo aperto molto bene il dibattito di questa sera. Io vado in ordine e quindi la parola la do subito ad Armando Massarenti che da filosofo, da direttore di un inserto di un grande giornale potrebbe darci almeno due chiavi. Una è quella fondamentale di cui lui dibatte molto spesso che è se la filosofia ci può servire per il futuro anche nel quotidiano. Se i nani possono esserci utili e poi Massarenti vi spiegherà cosa sono i nani. E poi la seconda cosa che riguarda anche il ruolo che il Sole 24 Ore nella cultura sta svolgendo se questo paese finalmente oltre che dirlo oltre che fare la retorica dell'Italia che senza cultura non ha futuro se nel futuro farai fatti. Grazie. Allora, grazie per questa introduzione. Dunque, in realtà le due domande sono strettamente collegate tra di loro. Nel senso che nel momento in cui due anni fa abbiamo lanciato questo manifesto per la cultura che si titolava Niente cultura, niente sviluppo è chiaro che ci abbiamo messo dentro parecchia di quella riflessione filosofica utile per la vita di ogni giorno utile per le decisioni politiche utile per avere una strategia avere una strategia culturale che appunto serve per costruirci un futuro. Però andiamo per ordine. Il riferimento ai nani è riferimento al fatto che io amo fare della filosofia in breve come peraltro fa anche Roberto Casati nella sua bellissima rubrica Semplicità e insormontabili che io ospito tutte le domeniche e c'è anche poi una mia rubrica che si chiama Filosofia minima dove appunto lancio dei nani come ha detto ironicamente una volta Umberto Eco chiamando appunto queste cose queste mie provocazioni filosofiche che sono semplicemente un modo per indurre ad una riflessione su temi che magari sembrano così marginali o partono da episodi secondari ma che in realtà cercano di divulgare nella maniera più appropriata dei temi molto importanti dal punto di vista filosofico sempre con questa idea che la filosofia insomma ci serve ci serve per la vita e che anche la cultura quindi cioè l'intero supplemento poi che a me capita di dirigere ci deve servire e non deve essere una sorta di decorazione di qualche cosa di più importante che avviene da qualche altra parte cioè la cultura la filosofia sono per come intendo io la filosofia e non purtroppo in questo paese non è così diffusa questa idea se vogliamo pragmatica di che cosa deve essere la filosofia che non esclude nulla di tutti i grandi problemi chiamiamoli metafisici ma che comunque bada molto al sodo e alla vita quotidiana come dobbiamo vivere alla saggezza di vita che dobbiamo conquistare ogni giorno che non ha niente di dogmatico peraltro ma che implica una grande capacità di riflessione di autoriflessione e che implica quindi anche delle capacità appunto delle capacità una consapevolezza di quali sono i saperi importanti per il nostro tempo una consapevolezza di quali sono gli strumenti per essere dei buoni cittadini quali sono i valori di fondo che ci possono regalare un futuro oppure quelli che i disvalori che invece ci possono regalare quello che cosa un futuro che ci crolla addosso cioè come è capitato purtroppo nel nostro paese negli ultimi decenni allora io forse la riflessione che farei è proprio questa cioè su come il nostro paese a partire anche da appunto da una riflessione di cosa è successo a me piace pensare proprio a cosa è successo esattamente 50 anni fa 50 anni fa questo paese aveva tutte le possibilità di essere al passo su tutta una serie di questioni di avanguardia peraltro di avanguardia intellettuale e scientifica e ha perso tutte queste occasioni mi vengono in mente quattro casi abbastanza paradigmatici uno era Felice Ippolito che aveva in mente vedo che poi magari ne parlerà meglio di me Ferroni quindi lo accenno soltanto ma comunque fu semplicemente lui aveva in mente un futuro energetico per questo paese aveva in mente il nucleare che fatto allora peraltro avrebbe avuto anche molto più senso che fatto tardivamente in questo paese ed fu assolutamente stoppato proprio dalle decisioni politiche e messo in galera così come fu messo in galera per motivi futilissimi quindi poi tra l'altro fu assolto il ministro l'allora ministro della sanità Marotta che pure aveva in mente un futuro importante moderno per questo paese per la sanità di questo paese ma poi c'è il caso di Buzzati Traverso che voleva costruire un grande polo di biologia molecolare che avrebbe potuto competere in maniera molto importante con il resto del mondo che se ne andò appunto perché non glielo lasciarono fare e poi ci fu un altro caso molto quasi comico direi a un certo punto quando morì Adriano Olivetti che aveva capito molte cose di cosa avrebbe dovuto essere l'elettronica quando morì fu coloro che hanno ereditato la sua meravigliosa azienda all'Olivetti che aveva già un nucleo di un ufficio un centro di ricerca sulle sulle tecnologie elettroniche quindi che passava dalle macchine per scrivere all'elettronica questo questo centro di ricerca fu chiuso con l'argomentazione che l'Italia non dove non era un paese che doveva occuparsi di queste cose ma doveva occuparsi di un altro tipo di industria con appunto argomentazioni piuttosto ridicole qui c'è una coda interessante che Terotti credo che si chiamasse l'ingegnere che praticamente progettò e costruì il primo personal computer lo fece di nascosto perché gli avevano chiuso appunto il suo centro di ricerca e lui ogni domenica si ritrovava con i suoi collaboratori lo hanno realizzato fu copiato integralmente dalla Hewlett Packard americana che ne produsse un certo numero di copie stava andando molto bene finché si accorsero che era stato copiato e vinsero la causa e quindi a quel punto l'Olivetti insomma ebbe una specie di risargimento simbolico mi pare di un dollaro per dire che erano stati comunque loro i primi ad aver inventato che cosa è una delle cose che poi con tutte le evoluzioni che ha avuto dopo riguardano appunto il futuro che c'è stato cioè i computer i nostri telefonini insomma tutte cose che voi fate questo semplice esperimento pensate a tutti gli strumenti elettronici che maneggiate ogni giorno e guardate quanti sono di produzione italiana ecco bene questo è un pezzo di futuro che si è verificato che c'è caduto addosso nel bene e nel male il mondo è andato in quella direzione lì l'Italia non è stata protagonista di questo ecco allora io ci ho riflettuto molto su queste cose per moltissimo tempo tra l'altro questa cosa poteva essere anche vista allora e qualcuno qualche osservatore importante per esempio Toraldo di Francia già nel 71 osservando questo scenario aveva usato questa espressione molto pregnante e forse oggi ancora di più l'Italia è un paese in via di sottosviluppo cioè è un paese che destinato ora adesso io non voglio darvi soltanto uno scenario negativo però per questo per dire che drammaticamente noi dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare che a non fare gli stessi errori è a pensare di mettere il nostro paese nelle condizioni ma a partire dal basso di avere un futuro vero di avere una popolazione che sia capace che abbia i saperi di fondo abbia gli strumenti per affrontare il presente e il futuro perché l'altro dato molto negativo che vi dico è questo che io tra l'altro sulla scorta di questo manifesto che noi avevamo lanciato avevo anche scritto poi un articolo che si intitolava noi analfabeti seduti sopra un tesoro cioè il tesoro dell'Italia sappiamo tutti qual è adesso lasciamo perdere le questioni scientifiche tecnologiche ma il vero tesoro dell'Italia poi è la cultura è la possibilità di essere consapevoli di quanto noi siamo importanti come immagine nel mondo rispetto a una serie di elementi evidenti insomma che riguardano la storia della cultura del mondo di cui noi siamo stati protagonisti insomma l'arte il rinascimento ma prima ancora la cultura di Roma ma anche la scienza Galileo ovviamente la musica eccetera insomma tante cose che caratterizzano l'Italia come il paese che appunto è un paese dove la cultura deve contare ecco io notavo questa strana contraddizione per cui il paese in cui la cultura deve contare al massimo grado è il paese che tra i paesi oxe è all'ultimo posto anzi al primo posto per questa non invidiabile classifica dell'analfabetismo funzionale sia per quanto riguarda la literacy sia per quanto riguarda la numeracy cioè la capacità da un lato di comprendere un testo non dico di leggere e scrivere perché insomma già Montale diceva 40 anni fa che la questione dell'analfabetismo oggi non è più quello di saper leggere o scrivere ma però è quella di comprendere far di conto e anche far di conto siamo messi malusso siamo i penultimi però siamo un po' meglio ecco cioè i secondi insomma i secondi peggiori i secondi peggio ecco allora di fronte a una cosa del genere adesso io non voglio farla lunga però voglio dire semplicemente che a mio parere per immaginare un futuro dell'Italia bisogna pensare che dobbiamo partire da una situazione per lo meno paradossale cioè innanzitutto molto negativa ci sono delle elite ovviamente che sfuggono a questa immagine però anche queste elite a mio parere non sono abbastanza consapevoli del fatto che bisogna riflettere molto su che cosa appunto sul non ripetere gli stessi errori che ci hanno portati qui cioè ad essere un paese in via di sottosviluppo come diceva Torrado di Francia cioè un paese che fa fatica in declino il declino ormai è evidente è stato negato per molti anni anche dopo che era iniziata la grande crisi del 2008 cioè in Italia siamo stati gli ultimi ad avere una percezione che si era in mezzo ad una crisi perché lo si è negato in tutti i modi e questa crisi continua perché anche guardate che quando si dice che c'è un minimo di ripresa insomma non siamo ammessi benissimo allora l'intuizione del manifesto della cultura era quella di dire signori nei periodi di crisi bisogna analizzare bene la situazione e pensare che la cultura è l'investimento migliore che si possa fare naturalmente bisogna riempirlo di contenuti questo termine che in realtà è un termine vago e anche altisonante per riempirlo di contenuti bisogna inventarsi degli strumenti allora in questi due anni di cose ne abbiamo dette tante però volevo concentrare l'attenzione soprattutto su due cioè uno che a mio parere c'è stato uno scollamento molto forte nelle decisioni pubbliche nelle decisioni politiche cioè appunto tra la politica da un lato e la cultura dall'altro intendo per cultura anche proprio la produzione di conoscenza e la produzione di conoscenze attendibili cioè quindi il tema delle competenze cioè di mettere al centro poi era il conoscere per deliberare di e in audiana memoria di Luigi Einaudi cioè si è perso molto in questo paese noi abbiamo visto su questioni molto importanti la politica decidere su cose completamente che uno scienziato per esempio considererebbe completamente irrazionali vedete soltanto un caso recentissimo ancora purtroppo di attualità quello di stamina è proprio la politica che ha creato una situazione di confusione tale per cui un gruppo di ciarlatani che propone delle pseudocure è stato al centro dell'attenzione come già più di dieci anni fa era stato il caso di Bella ma altri campi non so come è stata recepita la legge sulla sperimentazione animale gli OGM un altro caso abbastanza incredibile insomma sono tanti i settori dove e questo solo per limitarci all'ambito scientifico poi si può parlare anche di altri ambiti ambiti che guardiano i beni culturali la storia cioè si sono prese decisioni pubbliche che non avevano come fondamento le vere competenze cioè non sono stati neanche o fuori se sono stati consultati un caso paradigmatico è la legge 40 erano stati anche ascoltati gli esperti ci sono voluti 12 anni perché le cose che già si sapevano allora fossero cioè le contraddizioni di una legge assurda quella sulla fecondazione assistita venisse contraddetta da una serie di sentenze della Corte Costituzionale per cui adesso è tutto cioè voglio dire era già chiaro allora adesso allora di qui la prima proposta che noi concreta che noi abbiamo fatto che era quella di che devo dire non ha avuto non ha attecchito come avremmo voluto anzi devo dire che ormai credo che non sia più possibile fare ma quella di introdurre nella riforma del Senato un nucleo di persone competenti che potessero indirizzare le decisioni pubbliche ecco come esatto quindi questo esatto togliere il posto un politico questa è la versione grezza diciamo della cosa ma in effetti è così per cui è chiaro che la politica non ha al suo interno la capacità di riconoscere un'ulteriore dimostrazione il modo in cui sta andando il dibattito sulla riforma del Senato è un'ulteriore a mio parere dimostrazione del fatto che la politica non ha le capacità di rinnovamento che per me sono necessarie forse più fortuna potremmo avere sull'altra proposta che noi abbiamo fatto che è quella di intervenire sul sistema scolastico intanto per fare una riflessione sui saperi di fondo poi abbiamo fatto anche insieme a Renzo Piano che è uno dei senatori a vita quindi che introducono insieme a Elena Cattaneo soprattutto che è una scienziata una biologa che hanno davvero introdotto nel Senato un'impronta di questo tipo cioè le competenze che sono al servizio della decisione pubblica e avete ricordato il tema di maturità di quest'anno era Renzo Piano il rammendo delle periferie questa idea di andare a vedere pezzo per pezzo nel paese quali sono le situazioni problematiche e lui sta trattando innanzitutto tre casi ecco sulla base di quello noi abbiamo proposto anche l'idea di una riflessione sui luoghi dell'insegnamento sui luoghi scolastici ripensando proprio anche il modo in cui sono strutturate le scuole su questo andremo avanti ma ancora più importante forse e poi chiudo con la proposta che a me sembra la più importante oggi da sostenere che è quella di voi avrete visto che ci sono state delle proteste da parte degli insegnanti soprattutto per due questioni due decisioni del governo precedente l'insegnamento della storia dell'arte e qui torniamo al paese della cultura che sembra non capire che bisogna imparare a parte secondo me non solo la storia dell'arte ma anche le pratiche artistiche questo l'avevamo scritto nel nostro manifesto di due anni fa e quindi storia dell'arte da un lato filosofia in cui sono state ridotte le ore di insegnamento allora la mia proposta è di fare la filosofia appunto tornando alla questione di quanto la filosofia può essere utile per la vita di reintrodurre non tanto stare a recriminare se si fanno più o meno ore di filosofia perché poi se le si fa nel modo in cui si sono fatte fino ora insomma sono cose una cosa un po' d'elite riguardo solo i licei no fare la filosofia per tutti attraverso che cosa una materia in realtà pochissimo insegnata perché non è obbligatoria perché non ha un voto che è quella che si chiamava una volta educazione civica che adesso si chiama cittadinanza e introdurre lì oltre all'io studio della costituzione dei valori di fondo della nostra convivenza civile e del come si formano dei cittadini quegli altri strumenti che derivano chiaramente da discipline di carattere filosofico che sono la retorica per esempio la teoria dell'argomentazione cioè la capacità di esporre in maniera corretta un argomento basandolo sui fatti e su una coerenza di fondo dell'argomentazione e quindi anche la capacità di argomentare e di contro argomentare di intuire la bontà delle opinioni altrui quando sono anche diverse dalle nostre ma che però sono ugualmente ben costruite e una serie di appunto una sorta di 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 cassetta degli attrezzi del cittadino che gli permette tra cui la Numersi ma insomma ma anche magari un pizzico di cultura economica un pizzico di cultura sanitaria di cultura alimentare visto che siamo tra l'altro in tema di Expo del cibo del nutrire il pianeta ma insomma il pianeta e l'Italia in particolare va nutrita di un cibo di questo genere cioè di una consapevolezza di quali sono gli strumenti che devono appunto servire a costruire il nostro futuro perché il futuro lo si costruisce ecco è vero che non lo si può prevedere però si può provare a costruirlo grazie ringraziamo Massarendi che ci invita a nutrire anche l'anima mi pare che sia un invito finale molto importante e il passaggio è subito alla grande cultura scientifica quella insomma del fisico che sicuramente la rappresenta ai massimi livelli della ricerca perché insomma ancora abbiamo questo timore credenziale e forse anche questo spiega qualche errore del paese quindi faccio una domanda di questo tipo a Ferroni se abbiamo perso definitivamente alcune possibili battaglie che dobbiamo insomma fare in un altro modo e far finire diversamente insomma alcuni percorsi se c'è ancora tempo per raddrizzare la rotta della nostra barca nel settore scientifico e se insomma abbiamo la possibilità di immaginare che nel futuro italiano ma possiamo anche parlare del futuro in generale la cultura scientifica avrà finalmente quel ruolo che finora non ha avuto grazie buonasera il mio non è un ottimismo come quello di Boncinelli ho molte curiosità molte di esse diciamo sono però regate a dei dettagli io credo che la mia curiosità più grande sia quella di sapere come finirà l'universo credo che negli ultimi anni diciamo su questo ho avuto delle illuminazioni adesso credo di saperlo come finirà l'universo per fortuna dopo di te e me quindi non c'è un gran problema credo che la domanda fondamentale quindi diciamo di dove andiamo l'ho risolta no ma a parte lo scherzo fatemi dire una cosa l'Italia aveva un grande programma televisivo che si chiama non è mai troppo tardi credo che non è mai veramente troppo tardi non è mai troppo tardi per l'Italia non è mai troppo tardi per nessun paese peraltro questo lo dimostrano dei paesi che mi ricordo di aver letto mi diletto diciamo a leggere libri di economia credo che una ventina di anni fa lessi un libro interessante sul fatto su chi avrebbe vinto tra Giappone Stati Uniti ed Europa non si accennava neanche minimamente in quel libro che esisteva la Cina va bene vince la Cina quindi vedete bene che non è mai troppo tardi no? cioè non è mai troppo tardi è proprio su questo universo su questa terra questo è un concetto profondamente vero tuttavia non è mai troppo tardi non può essere affidato alla speranza non può essere affidato ai meccanismi come dire naturali dell'evoluzione questo non ci sta allora io direi che sintetizzerei il futuro in una frase semplice la bella notizia è che il futuro è nelle nostre mani la cattiva notizia è che il futuro è nelle nostre mani è così ma nelle nostre siamo qui cioè siamo qui in questo paese siamo qui in questo mondo allora dov'è uno dei nodi fondamentali dove la fisica c'entra ma ormai c'entra come una parte di un insieme di scienze che sempre più si compenetrano e insieme creano il futuro attraverso degli strumenti di comprensione ma poi attraverso degli strumenti di tecnologia cioè la fisica da sola ormai non è più il paradigma la fisica era la scienza del novecento ormai oggi la fisica non è più la scienza leader oggi c'è piuttosto una compenetrazione laddove le scienze si mettono insieme si fanno i progressi più importanti questa è la chiave però alla fine c'è un punto che o afferriamo o siamo perduti la tecnologia si sviluppa in maniera esponenziale cioè tutto quello che c'è l'anno prossimo probabilmente è più di quanto c'è stato nei prossimi due anni di quanto c'è stato precedentemente cioè la capacità di mettere a frutto la conoscenza diventa un fenomeno sempre più rapido sempre più esplosivo la società non è in grado di seguire dal punto di vista della conoscenza diciamo diffusa dal punto di vista dei comportamenti sociali direi che la società è lineare in questo senso ora la differenza tra una retta che sale e un esponenziale che esplode è purtroppo il punto chiave del nostro mondo di oggi voglio dire è inutile che ce lo stiamo a dire mentre a Berkeley si inventerà quello che tutti noi dovremo comprare perché se no i nostri figli come dice non ci considerano più umani ma bene noi stiamo a perdere 5 ore di tempo al mese in un'assemblea di condominio questo è un punto e l'assemblea di condominio è lo stesso di quando gli scimpanzè si mettevano lì e sbattendo il petto dicevano oggi io io andare tutti a comprare a prendere da quello albero piuttosto che da quello altro questo è il nostro problema cioè noi non ci riusciamo ad evolvere in maniera tale da essere sincroni con questa nostra strana capacità poi di produrre diciamo di mettere a frutto la nostra la nostra conoscenza questo è un problema fondamentale se pensate a pensate allo smartphone pensate all'iPhone al Samsung che ci avete in tasca va bene quella è l'enciclopedia universale lì già dentro c'è tutto il sapere distillato fino a oggi se volete sapere come funziona una cosa quello ve lo dice se volete capire qualche cosa modulo minimo di interpretazione quello ve lo dice a cosa serve per il 99% del suo tempo lo smartphone a mandare messaggi idioti al prossimo va bene adesso poi i messaggi possono essere anche importantissimi però tipicamente diciamo non sono l'uso migliore di questo strumento potentissimo va bene che avete in tasca e di nuovo c'è questa discrasia tra la capacità della tecnologia e l'incapacità diciamo dello sviluppo sociale di seguire di seguire questa cosa mentre noi difendiamo dibattiamo va bene se vanno difese le sacre frontiere della patria dal povero immigrato libico va bene i padroni del mondo intanto stanno ridisegnando il mondo stanno ridisegnando gli equilibri del mondo non quelli delle frontiere che ormai riguardano paesi in qualche modo periferici rispetto a qualsiasi interesse del mondo chi se ne frega come direbbe come si sarebbe detto una volta se la Jugoslavia l'ex Jugoslavia si divide in otto paesi sono otto paesi irrilevanti in un certo senso quello che conta un'altra cosa è chi domina quali sono i processi cruciali del mondo e quelli avvengono nei centri dove si controlla la conoscenza e la tecnologia e questa cosa diciamo sembra passare di fronte all'indifferenza all'incomprensione totale pensate a quest'altro c'è il famoso mito che noi il privato l'azienda privata costruisce innovazione eccetera l'istituto nazionale di sanità americano l'equivalente al nostro ISS pagato integralmente dallo stato americano investe 31 miliardi di dollari l'anno va bene per sviluppare nuova conoscenza in medicina nuovi farmaci questi farmaci quello che cura l'epatite C che a noi ci dovrebbe costare 80 mila euro giusto 80 mila dollari giusto quello lì è sviluppato su un contratto di ricerca dato dal governo americano bene quindi è completamente sovvenzionato dallo stato noi poi però paghiamo 80 mila dollari la società che produce quel prodotto sarà Novartis non mi ricordo chi è poi trova pure il modo di non pagarci le tasse perché lo produce in qualche paese dove poi si riesce a scappare intorno va bene e tutto questo è figlio di un meccanismo in cui quelli di prima i padroni del mondo hanno trovato il modo di evadere e qui viene il nodo fondamentale hanno trovato il modo di evadere completamente di andare al di là della politica di fare in modo che la politica non possa più controllare nulla nulla queste sono le chiavi su cui credo che ci stiamo giocando il futuro cioè mettiamolo in una maniera brutale la legge oggi esistente in un paese come l'Italia si applica a una società che non esiste più non ha gli strumenti per parlare per arrivare addirittura a capire di che cosa si sta parlando a intervenire sui processi reali che ci sono oggi e che determineranno il nostro futuro stamina l'ha detto lui ma vi rendete conto ma vi rendete conto di che cosa è stamina va bene in cui i tribunali decidono se uno deve essere curato o no ma questo non è di per sé cioè è una follia delle tante suppongo che non ci sia nessun altro paese né dell'Occidente avanzato né dell'Oriente super rampante né dell'Africa che arranca in cui questo possa succedere va bene tuttavia questo dimostra che la legge non è adatta a questa società una cosa interessante è che una volta una volta nel Parlamento Italiano va bene in tempi peraltro non tra i più felici della storia d'Italia c'erano molta più gente di cultura scientifica o di cultura in generale di quanta non ce ne sia oggi cioè quel Parlamento rappresentava una società con le sue componenti oggi il Parlamento vabbè lo guardate da soli fate vobbis va bene però questo è un problema perché se io che faccio le leggi se io che mi devo occupare del futuro del paese non ho neanche il linguaggio per capire cosa sta succedendo per poter intervenire sui processi cioè tecnologia parola c'è un muro va bene tra la politica e la tecnologia c'è un muro peccato che il mondo apparentemente lo domina non la politica ma quell'altra cosa questo è un problema uno dei punti che volevo segnalare che è figlio ovviamente della grande rivoluzione del novecento faccio una premessa pensate alle automobili va bene le automobili vengono inventate in un certo modo ma arrivano a maturità dopo 10, 20, 30, 40 anni va bene poi diventa un prodotto maturo poi il fatto che l'automobile sia più bella più brutta corra più veloce non è importante l'unica differenza è che occupa più strada cioè che aumentano e occupano più strada ma non c'è più una cosa pensate a quale sarà e come si sta sviluppando tutto il punto dell'applicazione di tutto il computing va bene attraverso la robotica va bene oggi ancora qualcuno fa un lavoro manuale perché l'investimento che servirebbe per cancellare per ridisegnare completamente ritorno indietro un attimo le fabbriche della Ford prima di capire come si ristrutturava l'intera fabbrica in funzione dell'innovazione che era stata prodotta ci hanno messo 20 anni va bene cioè non hanno perché usavano le stesse linee con della tecnologia che non era più adatta a quelle cose ci vogliono 20 anni ma quando sarà capito che l'investimento sulla robotica porterà all'illiminazione della stragrande parte del lavoro manuale cosa ne sarà di questa società e oggi ci dobbiamo porre questo problema perché quando i disoccupati saranno non il 21% della società ma non c'è proprio spazio per un certo tipo di lavoro e non mi dite che il 100% della società dovrà pensare va bene e produrre innovazione perché anche questo non sta né in cielo né in terra questo problema la politica se lo deve porre oggi la scienza non può farci niente purtroppo ho detto purtroppo la scienza può solo produrre robot più efficienti può solo produrre catene di trasmissione che funzionano meglio questo è uno dei problemi dove è il punto chiave che in nessun paese oggi credo tranne quelli dell'est lontano la Cina il Vietnam l'Indonesia la Corea e neanche più il Giappone nessuno oggi è disposto a investire oggi per trasformare la società e averla migliore domani la gente vuole solo conservare quello che ha cercare di aggrapparsi disparamente a quello che ha perché domani comunque così sa cosa succederà è quel futuro prevedibile che non temo non aiuti nessuno non aiuti nessuno bisogna avere il coraggio di investire guardando lontano se non recupereremo questa capacità siamo perduti l'Italia è un paese che ha delle capacità straordinarie ancora esiste una macchina che a me piace sempre citare come un esempio di come un paese può farsi del bene e del male allo stesso tempo è stato costruito a Pavia un acceleratore di particelle si chiama Centro Nazionale di Atroterapia Oncologica è stato costruito dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare insieme alla fondazione CNAO che appunto è stata messa apposta per costruire questa macchina questa macchina è uno strumento avanzatissimo per una cura che non è ovviamente di massa ma per un target specifico di tumori molto particolari per me ne usa degli ioni carbonio di queste macchine ce ne sono un'altra in Europa e tre in Giappone fine l'Italia oggi potrebbe vendere questa macchina c'è gente che si presenta paesi che vengono dicendo ci vendete il brevetto il brevetto è stato venduto all'Austria adesso c'è la Croazia c'è l'Arabia Saudita sono venuti i russi l'altro giorno a visitare questa macchina sapete che questa macchina i pazienti non li cura ne cura pochissimi e perché non ne cura pochissimi? perché le regioni italiane non sono capaci di decidere che gli vogliono mandare i pazienti perché mandare i pazienti costa ma non costa più che curare un paziente con la chemioterapia non costa più che curare un paziente con la radioserapia il problema è che non li curi più nel tuo ospedale dove ci stanno i tuoi medici siamo ridotti a questo siamo ridotti che ci siamo chiusi nel medioevo nel comune ma quello era un comune era un comune che ci avrebbe portato lontano ci siamo chiusi nell'assurdità che nel mondo globale noi ci stiamo chiudendo dentro il paese paesello non il sistema paese tutto questo è una vera follia c'è un ultimo punto su cui io sono neutro anche se ogni giorno che passa e trattasi di giorni la mia neutralità si sposta verso il punto di pessimismo c'è un banco di prova che per fortuna non è per l'Italia perché non l'avremmo già fallito va bene è per il mondo è il clima è sapere affrontare questo problema è sapere affrontare il problema di gestire l'energia in maniera tale da non doverci trovare in una situazione che non sapremmo comunque come gestire ammene se falliamo il banco di prova del clima non vi preoccupate c'è qualcuno che prenderà cura del problema è la natura a quella di noi non gliene frega niente 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 in maniera tale